Ed è sempre Rush Hour per raccontarvi i grafici del giorno. Siamo alla prima settimana di novembre e ci siamo lasciati alle spalle ottobre. Questo significa che abbiamo ulteriori spunti, ulteriori spunti di riflessione anche in virtù di quello a cui abbiamo assistito proprio nelle ultime settimane, cioè le riunioni delle banche centrali più importanti, alcune delle più importanti, la BCE qualche settimana fa, ma soprattutto proprio in questa settimana la prima di novembre la Fed, la Bank of England e la Banca Centrale Australiana. E il mese di novembre sostanzialmente è un mese che sorride ai mercati, nel senso che si prepara per quello che poi è in realtà il mese più importante quando si parla di rally, cioè il mese di dicembre e il rally di Natale. Beh, insomma, in realtà arriviamo da un ottobre molto performante, anche in virtù di questo aspetto che novembre potrebbe essere un mese di ritracciamento. Lo vediamo con il Fuzzimib e quindi con il primo grafico che vi proponiamo. Eccolo, questo è un grafico daily che parte da molto lontano, lo vedete, parte da aprile 2020, quando c'è stata la ripresa post-Covid. Un canale rialzista ancora molto, molto vivo, assolutamente ancora all'interno di questo trend rialzista. Non solo, siamo arrivati a l'ultima candela, l'ultima seduta, quella di venerdì, che rappresenta una Marubotsu quasi perfetta, tutta verde e che va a posizionarsi sui massimi delle settimane e delle sedute precedenti. Questo vuol dire che è un'enorme spinta ulteriore verso l'alto che, come vedete, punta ai 28.000 punti. Ma siamo comunque su dei livelli storici, quasi massimi storici, perché un livello così alto, a quota 27.656, non veniva raggiunto dal 2008, da settembre 2008, 13 anni fa, l'ultima volta in cui siamo arrivati a questo punto. È anche evidente, e lo vediamo dal secondo grafico che riguarda sempre il Fuzzi Mib, dicevo è evidente come il pavimento principale, il supporto principale sul quale si sta appoggiando il Mib è questo, è questo in area 24.000 punti. Questo è il pavimento su cui il Mib ha sostanzialmente costruito la spinta che gli è servita per arrivare appunto fino a 27.654 e che sostanzialmente potrebbe rimanere in quest'area ancora per qualche settimana, magari per tutto il mese di novembre, sfruttando quest'altro supporto che è a 26.500 grosso modo, lo abbiamo anche disegnato in bianco, prima di provare a spingersi fino ai 28.000 punti, anche se, e qui lo rivediamo nell'ultimo grafico sul Fuzzi Mib, l'obiettivo forse potrebbe essere quei 29.000 e qualcosa, molto a ridosso dei 30.000, che come vedete in questo grafico che invece è mensile, quindi è di ampissimo respiro e insomma non viene raggiunto proprio dal 2008, quello che vi dicevo prima, insomma a settembre 2008, lì avevamo raggiunto i 29.000 punti circa, chissà che entro dicembre non riesca il Mib a spingersi proprio fino a quel livello, in questo grafico è altrettanto evidente la spinta, il canale rialzista molto ripido verso l'alto che si è innescato dal 2020 per una situazione ovviamente di emergenza quasi unica, più unica che rara, dovuta insomma all'emergenza pandemica. Voltiamo pagina, ma anzi rimaniamo in qualche modo in Europa, anzi rimaniamo in Europa appunto perché guardiamo anche l'indice DAX, l'indice Francoforte, perché lo guardiamo? Per due motivi, di solito è il traino del vecchio continente, stavolta no, soprattutto per il mese di ottobre il Fuzzi Mib è stato più performante del DAX di Francoforte, vuoi per il fatto che c'è una certa instabilità in Germania per le elezioni e vuoi perché i contagi si stanno manifestando in maniera più evidente per quella che potrebbe essere la quarta ondata rispetto all'Italia, ma c'è da dire anche che in Germania è una questione di contagi, non di ricoveri ospedalieri che sta in qualche modo facendo parlare di sé, anche in effetti perché no spaventando un po' gli investitori. Però siamo davanti comunque a un nuovo massimo storico, cosa che l'Italia non è stata in grado di fare. Le ultime due sedute abbiamo superato con smalto, diciamo così, con anche una certa autorevolezza, i 16.000 punti. Un target che era stato raggiunto sì qui, in questo momento, quindi tra agosto e settembre, sostanzialmente a metà agosto, ma come vedete l'abbiamo segnato con due frecce gialle, è un doppio massimo perché in entrambi i casi quei 26.000 punti hanno spinto verso il basso il prezzo per quanto riguarda il DAX di Francoforte. Insomma, in questi casi, in entrambi i casi, a prevalere alla fine sono stati i venditori, tant'è che poi c'è stata, dopo una lateralità, un ritracciamento fino ai minimi dei 14.800 e a proposito di pavimento principale per quanto riguarda il DAX si tratta proprio di questo livello a 14.800. Da qui c'è stata la spinta per il mese di ottobre, comunque performante, si tratta di un più 8% nel giro di un mese, lo ha condotto fino ai massimi e fino a superare i 16.000, questa volta sì, con più energia e anche a livello volumetrico, è quello che sta accadendo proprio nella seduta di venerdì. Vediamo anche il prossimo grafico che riguarda il DAX, sostanzialmente è lo stesso, siamo sempre su un grafico daily, ma abbiamo compresso la fascia di tempo per capire come questo ultimo, ma scusate questo è un grafico settimanale, per farvi capire che cosa stia succedendo insomma in quest'ultima settimana, in quest'ultimo periodo, insomma questa candela è molto imponente e che ha permesso appunto a Francoforte di superare quei 16.000 fino a quel momento accarezzati, ma mai superati in maniera importante e osserviamo ancora di più, ancora meglio quello che è successo proprio nell'ultimo mese di ottobre, dove comunque come detto si registra un più 8% ed eccolo qui anche il supporto principale in area 14.800 punti, questo per quanto riguarda il DAX. Andiamo avanti per fotografare, beh, una delle materie prime per antonomasia, il petrolio, perché come vedete nelle ultime sedute è successo qualcosa. È successo che una volta raggiunto i 86, 85, 86 dollari al barile c'è stato un ritracciamento e proprio nell'ultima parte, nella seconda parte della settimana, vuoi magari anche per il fatto che in questa settimana si sia radunata l'OPEC, non ci sono state sorprese da questo punto di vista, ma insomma un conto è l'OPEC che basta, un conto è l'OPEC e la Fed e come sappiamo insomma quando parlo la Fed è il dollaro ad avere le oscillazioni maggiori e quindi inevitabilmente anche il petrolio può subire le conseguenze, beh insomma che cosa sta succedendo sul WTI? Ancora all'interno di un canale fortemente rialzista a partire da il mese da metà, mese di ottobre, ma verso la fine una volta raggiunti gli 85, 86 dollari al barile c'è stato un rallentamento, c'è stato anzi un ritracciamento fino all'area 79, 80 dollari al barile che rappresenta questo primo, un primo livello di supporto e che inevitabilmente come vedete è in qualche modo sotto, anche sotto pressione. O non è la prima volta che accade questo diciamo così ritracciamento e mica per e non per forza dopo un rallentamento del prezzo del petrolio abbiamo assistito a un'inversione di tendenza. Lo vediamo qui innanzitutto, qui eravamo tra agosto e settembre, qui c'è stata una evidente lateralità, un'evidente congestione, consolidamento del prezzo in area 67 che effettivamente è il supporto più importante del petrolio prima di assistere a una vera e propria correzione del prezzo, poi c'è stato un nuovo rialzo e adesso stiamo assistendo a un nuovo consolidamento anche se effettivamente la candela di mercoledì, il giorno della Fed, ci mostra che c'è stato anche uno storno abbastanza netto, abbastanza evidente. Vediamo anche il prossimo grafico che riguarda sempre il petrolio, qui riusciamo a capire ancora meglio cosa è successo, cioè una settimana, perché queste sono le candele settimanali rossa, non vuol dire per forza che il prezzo possa ricominciare a scendere. Abbiamo assistito in queste due settimane tra settembre e ottobre dopo i guadagni a partire da aprile fino al mese di luglio, qui però ovviamente siamo nel 2020 e partivamo dal sotto zero raggiunto ad aprile. Poi è successa la stessa cosa qui nel mese di marzo sostanzialmente dopo quattro settimane di forti acquisti, c'è stata una settimana ribassista ma è stata una settimana di puro consolidamento. Siamo ritornati su anche in questo caso, tra luglio e agosto c'è stato insomma un mese e diverse settimane di rallentamento o consolidamento del prezzo e sta esattamente accadendo la stessa cosa a novembre. Dunque sì, una settimana diversa per il petrolio, forse un mese anche diverso, ricordiamo che insomma il mese di novembre appena è iniziato, ma non per forza potremmo assistere a inversioni nette per quanto riguarda il prezzo del petrolio, anche perché i principali analisti più o meno si sono consolidati, hanno segnato come target di fine 2021 gli 80 dollari al berile che è esattamente il livello sotto pressione in queste istanti, in queste ultime sedute. Detto del petrolio, detto della principale materia prima che osserviamo durante le nostre dirette, guardiamo anche un cambio valutario, guardiamo il cambio che riguarda le due banche centrali che proprio questa settimana si sono espresse, parlo della Fed e parlo della Bank of England, quindi parlo del cambio sterlina-dollaro. Come vedete nelle ultime sedute è successo qualcosa di interessante. Ripartiamo da maggio-giugno 2021, periodo in cui la sterlina aveva raggiunto il suo massimo non storico ma un massimo molto importante e che rappresenta ancora il soffitto, il tetto oltre il quale non è più riuscito a portarsi. Parlo di 1,42 dove c'è stata una forte lateralità appunto tra maggio e giugno. Da qui un canale ribassista, evidente, forte, molto pulito se vogliamo, rotto a rialzo solamente in un'occasione proprio in questo punto nel mese di settembre. E insomma che cosa è successo nell'ultimo periodo. Questa cosa qui, e cioè la sterlina ha provato a uscire da quel canale ribassista e lo ha fatto rompendo area 1,38. Nell'ambito dei cambi valutari, più dell'azionario per certi versi, e qualche può capitare, i valori puliti, tondi, 1,38, 1,37, valgono ancora di più come soglie psicologiche rispetto appunto all'azionario o ad altre situazioni. Quest'1,38 è stato rotto a rialzo ma è stata una falsa rottura, come vedete, tra ottobre e novembre. Anzi, nelle ultime tre sedute questa candela imponente verso il basso ha ricatapultato la sterlina all'interno di quel canale ribassista e sostanzialmente assiste a un cambio che da 1,38 passa a 1,34 in meno di 10 sedute. È davvero insolito, insomma. Questo perché accade? Accade perché evidentemente gli investitori continuano a mettere fiducia e a mettere soldi nel dollaro che ha avuto un piccolo calo nel momento in cui la Fed si è espressa ma poi è tornato nuovamente a essere forte. Poi vedremo ovviamente anche quali saranno le conseguenze dopo la pubblicazione dei dati dei non far payrolls. Però la Fed da una parte che ha rinforzato il dollaro, quantomeno il mercato ha deciso di muoversi in questo senso dopo l'annuncio di Powell. E la Bank of England, che è rimasta sostanzialmente ferma, qualcuno si aspettava un rialzo dei tassi di interesse da parte di Andrew Bailey, insomma questo incrocio di due importanti annunci da parte delle due banche centrali, ha portato la sterlina nuovamente all'interno di questo canale ribassista. Vediamo anche il grafico successivo. Sempre sulla sterlina è sempre il grafico daily che ci mostra in maniera ancora più evidente un altro aspetto. Siamo davanti a un potenziale doppio minimo. È ovvio che nel momento in cui la sterlina si sia riportato in area 1,34 e 30. 1,34 vogliamo arrotondare per eccesso. C'è da vedere se questo supporto tiene o se invece verrà rotto verso il basso. Come vedete il canale ribassista vede un supporto dinamico ancora inviolato e quindi c'è spazio ancora per scivolare quantomeno in area 1,33 che è questo livello. D'altra parte ricordiamo anche che la Gran Bretagna sta ancora scontando diverse situazioni negative derivate dalla Brexit. Non parliamo solamente degli autisti, insomma dei camionisti che trasportano la benzina, ma parliamo anche di proprio supply chain, quindi rifornimenti e distribuzione che evidentemente stanno avvenendo un po' a rilento. C'è anche adesso il problema della carne per quanto riguarda la Brexit e il Regno Unito sarà uno dei prossimi approfondimenti che vi forniremo. Insomma può esserci spazio per la sterlina per scivolare ancora più in basso anche in virtù del fatto che come detto il dollaro rimane al momento una valuta di investimento e non di rifugio. Andiamo avanti per mostrarvi il prossimo grafico che è il grafico mensile che riguarda la sterlina. Per chiudere mostrandovi come spesso cambiano le cose da seconda dei punti di vista. Se guardiamo il grafico mensile, che è proprio questo che vi stiamo mostrando, in realtà non è che le cose siano cambiate più di tanto rispetto a prima. Cioè il canale ribassista è ancora chiaro, evidente, non è mai uscito da questo trend la sterlina guardando su grafico mensile. C'è stata un'impennata forse anche eccessivamente forte verso l'alto in area 1,44, 1,43, 1,42 con il soffitto che appunto vi abbiamo mostrato, quel doppio barra triplo massimo. In realtà vediamo come la soglia dell'1,34 è quanto mai importante anche a livello ciclico perché si è riproposto in questi momenti 2018, 2019, 2020. Il mercato, la sterlina non è mai riuscita ad andare oltre questa soglia di 1,34, i venditori hanno sempre spinto verso il basso ogni tentativo di superamento di questa soglia psicologica che adesso diventa supporto. Da resistenza in questo ambito è diventato supporto, un supporto quindi molto molto importante. Quindi è vero c'è ancora spazio per scendere guardando questo trend di medio periodo, ma nel lungo periodo sostanzialmente ci sta dicendo che se da una parte non è mai stato così sotto pressione come in questi ultimi tre mesi, l'1,34, ci sono le condizioni affinché questo supporto possa tenere ancora una volta e perché no magari assistere a un rimbalzo. Ultimo asset, diciamo, ultima serie di grafici che vi mostriamo è un titolo che ci riporta al Futsimib, è il titolo Nexi da casa. Ci state domandando in tanti ma che cosa sta succedendo? Nexi che era considerato, lo vedete, fino al mese di luglio come un titolo su cui investire perché performante, perché fa parte di un settore di quelli che stanno crescendo di più in questo periodo. Beh insomma dopo i massimi nel mese di luglio 2021 vicino ai 20 euro ad azione siamo ai 19,50 sostanzialmente dopo una bella impennata avvenuta nel mese di maggio quando gli acquisti hanno ricominciato anche seppur lentamente a riprendere insomma quando c'è stato un primo spiraglio di luce dopo il lockdown e quindi c'era voglia di investire, voglia di acquistare con tanto di inflazione che insomma sappiamo dove è arrivata. Da qui c'è stato un consolidamento in area 18 e poi boom una sorta di pietra tombale anche se tecnicamente non ce ne sono di queste candele. C'è una shooting star qui a ridosso tra ottobre novembre ma insomma nelle ultime sedute, 2, 4, 6, le ultime sette sedute in particolare Nexi ha perso davvero parecchio terreno portandosi dai 18 euro ad azione ai 14 euro ad azione su un supporto molto importante che è proprio quello che riguarda i 14 euro ad azione che potete vedere qui. C'è stato un rimbalzo e un tentativo timido, modesto, di ripresa insomma quantomeno verso area 15 euro. Nel prossimo grafico sempre che riguarda Nexi vediamo più nel dettaglio che cosa accade, siamo sempre in un grafico daily, questo è il supporto di cui vi parlavo in area 14 che tiene da sostanzialmente un anno, mese di novembre 2020, mese di novembre 2021, questo è sostanzialmente la resistenza più importante quella in area 19 e 5. C'è da dire che guardando il grafico settimanale, grafico weekly, quest'ultima settimana ci dà un'indicazione interessante. La spike ribassista che ha accarezzato i 14 euro ad azione ma non li ha rotti al ribasso, non c'è stato un breakout ribassista. Il supporto ha tenuto e l'emmer che osserviamo per quanto colorato di rosso ci mostra che i compratori hanno prevalso sui venditori. Il tentativo di andare verso i 14 è stato sostanzialmente rispedito al mittente. L'ultimo grafico di Nexi che vi mostriamo è un grafico a due ore per farvi capire il tentativo di ripresa di Nexi che c'è, è timido, modesto ma c'è. Grafico a due ore, siamo arrivati a 14,250 e fondamentalmente da quasi inizio del mese Nexi non ha fatto altro che vedere i compratori prendere il sopravvento per quanto riguarda questo titolo, anche se in maniera non propriamente energico. Sta di fatto che la prima soglia psicologica da superare per poter vedere Nexi nuovamente riavvicinarsi all'area dei 17 euro ad azione è quello che riguarda i 15. Potete vederlo, è la linea tratteggiata. Questa è una soglia psicologica con cui Nexi effettivamente sta visticciando, sta litigando e sta cercando di portarsi al di sopra per evidentemente poi tirarsi sulle maniche e cercare di recuperare quanto smarrito. Questo è un grafico a due ore, lo ricordiamo. Regia, per favore, l'ultimissima cosa, torniamo indietro di un grafico se ci riusciamo. Eccolo qui, perfetto, per farvi vedere come il trend rialzista novembre 2020 sia stato rotto effettivamente al ribasso ma con una sola candela settimanale e quello che vi ho mostrato prima, questa candela che mostra sostanzialmente una ripresa di smalto da parte dei compratori, insomma si può ancora valutare un ingresso, diciamo una ripresa all'interno di questo canale ribassista e quantomeno mettere sotto pressione, testare questo supporto dinamico che appunto parte da un anno fa e è stato rotto a ribasso proprio in queste ultime due settimane. Era l'ultimo grafico che vi mostriamo insomma per quanto riguarda il focus dei grafici del giorno, adesso andiamo in pausa, rimanete in nostra compagnia.